Ciao da Wear86, bentornati in mia compagnia. Oggi, dopo tanto tempo che è passato dalla video recensione completa del Xiaomi Mi 4, andiamo un po' a parlare di questo dispositivo, visto che grazie a grossoshop.net mi è potuto ricapitare sotto mano uno smartphone che attualmente si trova intorno ai 310-320€ nella versione chiaramente non LTE, per avere la versione LTE ci vuole qualche soldino in più. Siamo abituati a parlare sempre nei video degli smartphone più blasonati a livello anche di marketing, mi viene in mente il Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, l'HTC One M9, l'LG G Flex 2, potrei star qui ad elencare una vasta gamma di smartphone senza render merito o demerito a nessuno, però oggi davvero mi viene da pensare come uno smartphone nemmeno tanto fresco, nuovo, visto che è già passato più di un anno dalla commercializzazione sul mercato di questo Xiaomi Mi 4, insomma come davvero si possa spendere una cifra non esagerata per uno smartphone Android e avere caratteristiche davvero al top. Qui abbiamo 3 GB di RAM, 13 MP la fotocamera posteriore che offre scatti direi meravigliosi, una costruzione con il frame qui in metallo direi davvero eccellente, guardate proprio le rifiniture che Xiaomi ci offre all'interno di questo smartphone, la fresatura, dell'alluminio, davvero l'intagliamento di questo smartphone è ai massimi livelli. Abbiamo diverse colorazioni, quella bianca e quella nera, nera davvero dovrebbe essere, non l'ho mai visto onestamente dal vivo, ma dovrebbe essere uno smartphone spettacolare perché insomma il nero forse dona anche quel tocco in più a questo telefono che già di per sé è fantastico. Mi scuso se ripeto questa parola ma è la verità, cioè quando si prende in mano uno Xiaomi Mi 4 si sente davvero quella cosa in più che tanti smartphone oggi giorno non offre. Non sono solo chiacchiere perché si può vedere anche da come gira questo smartphone a 3 GB di RAM, ok, però guardate la fluidità d'uso, nessun tipo di impuntamento, nessun tipo di delay, proprio non c'è niente che ferma questo smartphone, un browser a dir poco reattivo, sempre fluido, mai qualche tipo di impuntamento, l'unica cosa negativa, nota negativa che ho trovato è l'user agent desktop che non sempre viene riconosciuto. Guardate anche la bellezza della fotocamera, al pronti via si scatta, si inquadra, si registra, si può passare alla modalità video e qui già un piccolo plus almeno per quanto uso io lo smartphone, vedete ho toccato l'icona video e non parte il video e questo secondo me è una cosa molto importante, in tanti smartphone parte il video, io non sono pronto e quindi devo tagliare la scena iniziale, qui invece ci dà lo smartphone il tempo di andare ad inquadrare ed è una cosa che non tutti fanno, con un swipe verso destra si può entrare nelle impostazioni rapide del nostro video ma allo stesso tempo entrare anche nelle impostazioni più dettagliate, stessa cosa avviene nella fotocamera, possibilità di fare foto selfie con un'ottima qualità, l'apertura focale 2.0 quindi un'apertura focale eccellente in questo telefono, anche qui abbiamo la possibilità di dare degli effetti in stile Instagram, swipe verso destra per entrare nelle impostazioni rapide per scegliere le nostre scene e abbiamo anche il manuale per scattare le foto, nonché anche entrare nelle impostazioni e visualizzare appunto tutte le impostazioni della nostra fotocamera, impostazioni a livello di reflex, c'è veramente tutto all'interno di questo smartphone, nonché anche la possibilità di fare un HDR, vedete live, ovvero abbiamo proprio la possibilità di vedere in real time quello che l'HDR ci offre oppure anche un HDR normale, quindi sarà un post produzione dell'HDR sulle nostre foto, la galleria che viene aperta in maniera fulminia, possibilità di condividere i nostri, le nostre foto, guardate non c'è impuntamenti in questo smartphone, è davvero una cosa eccezionale, ma la cosa che più mi piace, più mi ha entusiasmato in questo Xiaomi Mi 4, ma in tutti gli Xiaomi, è la parte delle impostazioni, c'è veramente tutto all'interno di questo software, ovvero la MIUI in versione 6. Allo stesso tempo, stessa MIUI, pensate bene, si aggiorna ogni settimana, aggiornamenti che vengono fatti via OTA, quindi vi arriveranno all'interno del vostro smartphone, voi non dovrete fare niente, solamente schiacciare download e far partire il vostro OTA update. È interessante anche la possibilità di registrare le chiamate ed utilizzare anche un registratore interno, c'è lo scanner, c'è la modalità del display, c'è la modalità per tarare proprio il colore del display, nonché anche la possibilità di avere un account Xiaomi per tenere traccia di tutti i nostri dati, possibilità di cambiare la nostra lock screen. Abbiamo le applicazioni di default che guardate come sono belle, per esempio il calendario, un design quasi unico, stessa cosa per le note, guardate che bellezza proprio, il meteo, meteo proprietario, possiamo mettere una città a caso, tanto non ci può interessare, guardate che bellezza, che pulizia proprio dell'applicazione di sistema. Andiamo anche a strumenti, perché guardate, per esempio, un a caso, l'orologio, c'è, qui c'è veramente cura nel dettaglio, come avviene anche sullo Xiaomi Mi Band, che c'è l'app che è costruita molto bene anche graficamente parlando, qui viene riportato il tutto. Applicazione della musica, guardate, bella anche la possibilità di andare a cercare online i brani, chiaramente si parla di store cinesi, store cinesi che si ripropongono anche all'interno della modalità temi, ovvero potremo andare a scaricare i temi all'interno del nostro smartphone e donare un'interfaccia grafica tutta, tutta nuova. Interessante anche la possibilità tramite questo tasto di andare a chiudere le nostre app, oppure con la X di chiudere tutte le applicazioni e liberare i 3 GB di RAM. Guardate bella anche l'animazione per andare a cancellare un'applicazione, per esempio Real Racing 3, avete visto, molto bella e graficamente da wow. Poi abbiamo i toggle rapidi che li possiamo usufruire mediante uno swipe da sinistra, da destra verso sinistra, scusate. Insomma c'è veramente tanta carne al fuoco, tanta ciccia all'interno di questo Mi 4, ma soprattutto all'interno della MIUI in versione 6. Lo consiglio a chi davvero vuole uno smartphone premium senza spendere tanto, ma avere un'autonomia pazzesca, una ricezione favolosa, anche l'audio in capsula è meraviglioso, si sente nitido, si sente chiaro e non sempre in uno smartphone questo è possibile. Quindi attenzione anche alla cura del suono che Xiaomi ci dona all'interno dei smartphone. L'audio qui esce in maniera corposa e forte, ma chiaramente adesso ve lo faccio sentire al volo. Vabbè, non è una canzone che fa pompare tanto gli speaker, però insomma funziona meravigliosamente bene. Insomma ragazzi, uno smartphone che io non so più che parole cercarvi per esprimere le mie sensazioni assolutamente positive e anche un touch and feel meraviglioso con questo telefono. Io vi lascio il link in descrizione di GrossoShop.net che per gli utenti Guerzo86 offre un prezzo vantaggioso, ve lo potete portare a casa con, insomma, siamo sui 310, 315 euro. Uno smartphone che merita soprattutto di essere visto e provato. Per oggi è tutto, cari amici, ci sentiamo come sempre nei prossimi video. Un saluto dal vostro Guerzo86.